Ciao ragazzi sono il piccolo ruby e sono qui per parlarvi di dark dawn ovvero l'alba oscura il terzo volume da saga di never night forse il meno peggio dei tre onestamente il finale è qualcosa di veramente allucinogeno e imbarazzante ma andiamo per gradi allora come saprete questo tipologia di video è spoilers quindi vi racconterò il libro della notte alla fine perché devo appunto dirvi che cosa succede perché non ha assolutamente senso comunque finito sto video ne registrerò un altro dove vi parlerò appunto della dell'intera saga che cosa ne penso però dal punto di vista non spoiler e facendo una cosa oggettiva della insomma della saga allora alba oscura inizia con il corpo di scena ovvero che mia viene a scoprire che lei è figlia di scaeva e che trick è resuscitato nelle puntate precedenti abbiamo visto mia che è diventata il spalla spartacus della situazione abbiamo vista uccidere duomo nel giro di tre secondi perché la parte finale era tutta random come la parte finale del primo volume abbiamo visto che appunto sto duomo è morto scaeva che si è fatto scudo col suo fratello lei che ripisce suo fratello trick è resuscitato scaeva non è morto perché se no voglio dire il terzo volume non aveva ragion non essere e la cara ascia viene a scoprire appunto queste due cose ovvero che scaeva e il padre della cara mia e che lui ovviamente non è morto e che trick è resuscitato chi l'ha resuscitato perché non si sa io questa parte onestamente non l'ho capita cioè mi avessero detto guarda è stato resuscitato da una sorta di melisandra dei no altri che ha fatto un rito allora dico vabbè ok ci può anche stare ma non è assolutamente resuscitato cioè è resuscitato ma non si sa e la funzione di trick è solamente quella di raccontare a mia che lei è la prescelta di qua di là del coso della notte va tutta la mitologia eccetera eccetera e poi per mettere un po di pepe tra le due perché come saprete la cara mia e la cara ascia fanno un po delle cosacce e si sono innamorate perdutamente anche lì però la storyline d'amore non è assolutamente coerente perché la cara mia quando le dicono prima che lei è la prescelta di qua di là fa un discorso che dice se tu uccidi qualcuno di a me caro io ti uccido a sua volta benissimo perché non ha ucciso ash mi domando cioè se ash ha ucciso trick che comunque era il suo amico di letto perché ash cioè perché ash non è stato ucciso da mia e invece mia sei innamorata di lei non si sa quindi la funzionalità di trick che poteva essere un personaggio interessante e la sua resurrezione poteva in qualche modo avere un senso di qui di lei eccetera eccetera un senso non ce l'ha come dice la canzone di vasco e la resurrezione di trick è solamente un qualcosa di oh mio dio che cosa sta succedendo ma oh mio dio che funzionalità ha e tu rimani ampiamente deluso quindi trick resuscita lei gli tremano le gambe ovviamente la cara mia corvere non ha emozioni perché io posso capire il gatto che le mani ha paura benissimo però deve avere gioia dolore risentimento no c'è sta niente cioè gli tremano le gambe la carash le dice guarda che tu sei figlia di di scaeva che quale è tuo fratello di qua di là e e te la prendi in quel posto praticamente quindi tuo padre non era tuo padre perché lei è convinta che lei è figlia di cioè che lei è figlia di quell'altro del del caro darius perché ha il fratello che è petulante petulante come non so che cosa e di una petulanza il fratello anche lì la solamente la funzionalità di rompere le scatole all'inizio del romanzo e poi vedremo poi alla fine lei praticamente con il tatto di un elefante svaroschi le dice guarda che io sono tua sorella e lui dice sti gran ca e lei dice no perché sai noi abbiamo lo stesso padre cioè abbiamo la stessa madre ma non lo stesso padre allora gioia bella se il caro sid ti ha detto che tuo padre faceva cosacce con qualcun altro ok e quindi tua madre non la sfiorava manco come un dito tu sei figlia di darius perché cioè per inseminazione artificiale gioia bella cioè se ci sono arrivato io che sono un cretino ci puoi arrivare anche tu e lei è convinta di questa cosa finché viene in qualche modo citofonata perché i colpi di scena di jake christophe sono citofonati come la pubblicità del c'è gigi no la cremeria si sali la stessa identica cosa dove praticamente asha le dice questa cosa le dice guarda che quella è tuo padre praticamente no e io voglio dire ma puoi costruire un colpo di scena dove il lettore a monte sa delle cose prima della protagonista cioè questa cosa ha senso se tu fai una serie televisiva ok perché la serie televisiva tu scopri che brooke se la fa con il fratello con il con il genero il marito di sua figlia tu lo vieni a scoprire prima e poi vuoi vedere la reazione ok perché è tutto molto visivo ma in un libro non può funzionare questa cosa cioè è inutile che io 30 anni prima vengo a scoprire che asha è figlio di scaeva e poi 20 anni dopo lo viene a scoprire lei tra l'altro non avendo neanche nessun tipo di reazione cioè io è questo che mi fa arrabbiare cioè mia non ha alcun tipo di reazione ok che il gatto le magna la paura come ho detto prima però non prova gioia il sentimento dolore niente prova orgasmi quelli li prova sicuro anche i multipli però tutto quello che concerne a un altro tipo di sentimento zero nada de nada vabbè quindi praticamente noi abbiamo già saputo questa cosa prima viene telefonata no se telefonando io ti potessi dire che scrive tuo padre te lo direi e che cosa succede succede che lei se la prende in quel posto un'altra volta già le aveva presa l'aveva presa prima quando le avevano detto che la chiesa rossa era intralazzata col padre poi quando si le aveva detto che il padre faceva cosacce con qualcun altro lo voleva mettere sul trono di qua di là voleva mettere il suo amante e lo prende in quel posto una terza volta perché in questo romanzo lei viene sfannata e praticamente qui c'è una parte dove doveva essere il colpo di scena perché praticamente lei esce da ste fogne perché ecco le fogne con il col petulante lì con la palla al piede e vede scaeva dove fa il suo sermone dice che praticamente lui non è morto che era un che era praticamente un sosia bla 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 quindi il moglio divento l'imperatore supremo di questo di questa valle di lacrime e vi è attaccata al tram praticamente succede un po questo era lì che si poteva costruire un colpo di scena cioè lei scopriva che trick era risuscitato benissimo poi usciva da stefania e vedeva scaeva e lì noi vedevamo a scoprire tutto con lei cioè inutile che noi lo sapevamo vent'anni prima vabbè praticamente lei va nel castello ora un tizio che ha subito un attentato quante guardie dovrebbe in linea teorica avere io non dico una sessantina però 7 8 10 no due guardie nel giro di tre secondi le uccide e c'è il confronto col paparino e il paparino il caro scaeve forse uno dei personaggi interessanti all'inizio ma poi che si va a perdere perché la problematica di j christophe è che lui non sa costruire un personaggio che il personaggio principale come la cara mia avrà un'evoluzione che secondo me è qualcosa di imbarazzante i personaggi secondari sono solamente funzionali quindi del deo ex macchina si dice così al fatto che la protagonista debba fare una determinata cosa e debba arrivare a un certo punto finito di fare quella cosa te ne puoi andare mentre poi ce ne sono altri dove l'introspezione era molto interessante come il personaggio di furian ma viene buttato nel cesso e il personaggio di furian era veramente molto interessante perché se non potevamo andare avanti la questione dei tenebris che onestamente in questo volume si riduce tutto a un equilibrio di notte e giorno perché non c'è sta la notte di qua e di là e buona notte io pensavo che j christophe poteva battere tantissimo su quella cosa dei tenebris di che cosa sono sì che cosa sono sono praticamente tanto per intenderci degli horcrux dei pezzi della dea di qua e di là però che dava molta più spazio a quella cosa molta più enfasi anche qui il fatto che il fratello è un tenebris basta anche perché ucciderà il padre ma lo ucciderà normalmente cioè non è una questione di poteri cioè io pensavo che la cara mia faccia un po' come sailor moon quando le altre guerriere sailor gli danno tutti i poteri e lei può sconfiggere il nemico una cosa così no invece no invece no quindi questa storia tutta dei tenebris è un po' buttata lì così alla cazzo poi alla fine avremo mia che diventerà insomma con la maschera eccetera eccetera diventa una strafiga però fondamentalmente tutta la questione dei tenebris che poteva essere in qualche modo interessante viene un po' ampiamente buttata nel cesso quindi il ca arriva dal scaeva scaeva c'ha un serpente come tenebris che mi ha ricordato molto naggini ma lasciamo perdere e le dice senti gioia bella se tu mo sei diventata quello che sei diventata e lo devi grazie a me perché perché innanzitutto io ti ho ti ho ho fatto in modo che tuo padre non salisse sul trono perché il padre voleva fare rivoluzione ma non per amor di patria ma perché voleva mettere il suo amante e lì sarebbero stati dei cavoli amari secondo ti saresti sposata con un bamboccio e aveste fatto tanti bamboccini tu sei diventata una persona forte sei diventata spietata temeraria ma almeno sei diventata una persona indipendente quindi non una damigella che stava nel castello che diceva quattro parole buonanotte quindi che cavolo vuoi mi dovresti soltanto ringraziare e poi diceva che non facciamo un'alleanza tutti quanti insieme diventiamo tutti potenti governiamo e buonanotte no lei nonostante venga a sfan puntini puntini continua imperterrita e praticamente il caro mercurio è stato rapito dalla chiesa rossa cioè lui praticamente si trova in questa chiesa rossa e io pensavo che mercurio fosse in una cella pane acqua no se ne va in giro per la chiesa rossa di qua di là va a destra sinistra quindi andiamo a scoprire una cosa totalmente inutile ovvero che faceva cosacce con drusilla che drusilla è un po' una vecchiaccia e lei gli diceva ma ti tira ancora di qua e di là hai bisogno del via e lei dice queste cose sono veramente al limite del love line con camilla rasnovic e praticamente scusate non ce la faccio e praticamente c'è una parte che io onestamente non ho capito ovvero il fatto che lui legga il primo libro nether night e il secondo ghost grave perché praticamente questi libri sono stati scritti raccontando la storia di mia ora i libri precedenti raccontavano la storia passata e quindi noi siamo arrivati al presente però no perché c'è anche il terzo libro quindi in linea teorica sta storia come io sta parte veramente va a comandare in bestia allora se tutto il libro è stato scritto chi è che l'ha scritto? cioè un tizio che è andato nel passato che ne so ha avuto delle promozioni come Phoebe Halliwell e quindi ha scritto tutti questi tre romanzi perché poi successivamente la cara Drusilla vorrà sapere insomma che cosa succede e vorrà trovare questo terzo libro poi nella parte finale si dice che è Mercurio a scrivere questi libri ora non ho capito questa parte onestamente cioè io pensavo che mia corbere era morta che avesse fatto tutto quello che aveva fatto quindi nether night, la chiesa rossa, il padre bla 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 il spartacus eccetera eccetera che fosse morta fosse stata riportata in vita e che di conseguenza il libro era stato scritto quindi che lei raccontava la sua morte che fosse stata riportata in vita dalla dia della morte per diciamo purificare la chiesa perché comunque Mercurio fa un bel discorso e dice che praticamente la chiesa è corrotta la chiesa è insomma marcia e che lui si è allontanato dalla fede e questa è una cosa molto interessante quindi io pensavo quello onestamente io sta parte dei libri non l'ho capita per favore qualcuno me lo può dire me lo può spiegare perché io non ci ho capito niente perché in linea teorica poi il libro prenderanno il terzo libro diranno che è morta di qua e di là e vorranno un po' cambiare le cose non ci ho capito cioè questa parte io non l'ho capita cioè un conto era che ne so come il signore degli anelli che la cosa viene raccontata bla 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 eccetera eccetera e la cosa poteva anche stare o come il che ne so la storia infinita ma il punto è che questa cosa non ha senso cioè non ha senso che tu mi vieni a dire che Mercurio stava leggendo i libri quindi già sa una storia ma cos'è Inception? boh vabbè comunque leggesti i libri poi vogliono recuperare il terzo libro per vedere benissimo siamo passati da Spartacus arriviamo ai Pirati dei Caraibi dove praticamente la nostra mia corvere dal nulla diventa Regina dei Pirati e io sta cosa qua non l'ho capita non l'ho capita vi giuro vi giuro non l'ho capita sta cosa cioè in conto a sto Claude che il nome mi ricorda quello del il popazzo di Sakura c'è sto Claude che praticamente di qua e di là la fa andare sopra sta nave poi arrivano gli Illuminati ovviamente nel giro di tre secondi gli fanno muore tutti di qua e di là e lei praticamente poi il sunto è che le deve trovare sta corona della luna che io pensavo essere il diadema di Sailor Moon poi questa parte poi la vedremo comunque nella parte centrale del romanzo non è che succeda tante cose e la narrazione si va un po' a impantanare perché? perché fondamentalmente lei diventa regina di Sti Pirati che anche qui non ho capito per quale motivo ci sono delle morti random perché J. Christophe non fa morire qualcuno non c'è sta scene di sesso un po' così e una sorta di triangolo amoroso perché a Trick gli sta qua il fatto di essere stato pugnalato da Ashlyn e le lancia le frecciatine è perché tu insomma io sono stato pugnalato al cuore e la cara Ashlyn se ne esce con una frase che onestamente io non ho capito cioè perché lei trova delle giustificazioni idiote cioè non è che dice vabbè io sono stata costretta ad ucciderti perché tu hai scoperto determinate cose bla 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 e ci poteva anche stare no lei praticamente dice e vabbè ma noi siamo tutti quanti assassini ma che cazzo vuol dire? cioè ma cosa vuol dire il fatto che siamo tutti quanti assassini? ma non ha senso questa cosa questa cosa non ha assolutamente senso cioè cosa vuol dire? eh vabbè dai siamo tutti siamo tutti assassini quindi dovevi crepare di qua e di là ma non era una giustificazione cioè una giustificazione era che lei diceva guarda che io sono stata costretta da illuminati eccetera eccetera di qua e di là no lei trova queste cose veramente cretine e quindi la parte romance ovviamente ci deve essere ed è preponderante come nel primo volume perché nel momento nel secondo Ash andava, scompariva andava e tornava insomma in questo secondo volume c'è una sorta di triangolo amoroso tra lo zombie e quell'altra l'Ashley che onestamente è molto imbarazzante è molto imbarazzante con tutta questa parte nel senso che poi alla fine poi alla fine Ash farà una brutta fine e di quello poi ne parleremo però fondamentalmente il sunto del triangolo amoroso è che alla fine Mia sceglie Ashley anche qui da un punto di vista poteva essere una cosa innovativa interessante perché comunque Jay Christophe all'interno del romanzo inserisce una tematica come la sessualità questo e quell'altro eccetera eccetera però fondamentalmente vedo proprio delle forzature anche il fatto che Ant-Trick ci vuole provare con lei che la bacia di qua e di là lei dice no 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 non voglio più vedere un pisello basta di qua e di là da una parte è molto interessante questa rappresentazione da un'altra parte io l'ho vista veramente una cosa forzata proprio perché la forzatura è data dal fatto che il romanzo è preponderante cioè come se Jay Christophe non voleva cioè non è che non voleva non sapeva come continuare la storia si è concentrato più sul romance e io non capisco come alcune persone che il romance gli fa ampiamente schifo quell'abbiano amato cioè a me il romance non è che non mi piace il punto è che in questa situazione secondo me è stato mal gestito soprattutto nel primo romanzo dove comunque si doveva parlare della chiesa rossa e stanno a parlare dei cavoli loro tra l'altro c'è una cosa imbarazzante veramente imbarazzante non solo il dialogo di Ashlyn che no vabbè ma siamo tutti abbiamo fatto le scuole insieme e gne gne siamo tutti assassini ma che cacchio vuol dire la cosa imbarazzante che poi arriva una parte molto interessante dove si raccontano le loro disavventure amorose cioè e quindi sono cascate tutti gli organi del corpo dagli occhi ai genitali praticamente noi veniamo a scoprire un particolare molto interessante del personaggio di Trik no scusate di Sid Sid era quel personaggio che a me ha ricordato molto Kenji di Shattermy o quell'altro Sevra di Red Rising cioè quella parte comica cioè quel tizio che che ne so stiamo a parlare della guerra e ti fa la battutina ho avuto un'erezione cioè queste battutine proprio idiote no e alla fine l'unica funzione che ha avuto Sid al pal posso dire cretinate è stata quella di raccontare a Mia che il padre bombava con qualcun altro e poi basta benissimo il caro Sid ritorna in questo tessuto di personaggi di qua di là dicendo solamente che cosa che lui se la faceva con quelle più grandi di lui che praticamente è arrivato il marito la stava entrando il marito non so cosa è successo di qui di là e si mettono tutti a ridere ma puoi santo di quel cielo cioè qua stiamo parlando di tenebris di vendetta stiamo parlando del fatto che poi dobbiamo arrivare al clou della situazione lei che è diventata la regina la regina la regina come Yolanda la figlia del corsaro nero mancava solamente Cabir Baby e tu ti concentri su una parte così ridicola cioè tu mi è a dire del fatto che loro hanno di qua di là hanno fatto le disavventure sessuali che poi tirano in ballo Trick e Trick lancia la frecciatina e dice eh no perché io lei quando me la so fatta io l'amavo ma vi prego poi c'è un'altra parte dove ovviamente ci viene spiegato le loro sbronze che loro si prendono delle sbronze eccetera eccetera cioè bellissimo tutto molto interessante e tutto molto bello quindi noi abbiamo nella chiesa rossa il fatto che c'è il tipo di qua di là che sta andando tra l'altro poi il caro Mercurio c'è una parte molto interessante mi sono dimenticato di dire il caro Mercurio si nutre praticamente di sangue dalle parti intime di una donna anche lì una scena totalmente buttata solo per scandalizzare perché all'interno comunque del fatto che lui debba scoprire determinate cose sulla cara mia corbere non ha assolutamente senso perché è totalmente buttata lì cioè io avrei capito che se lui fosse un vampiro ok avrei accettato anche la cosa però ma visto che non è un vampiro è una cosa che viene buttata totalmente lì così alla cavolo di cane vabbè comunque ci stanno ste morti di qua di là eccetera eccetera finché poi arriviamo al clou della situazione arriviamo al clou della situazione e prima di arrivare comunque alla scoperta di Stacleo che era la tizia dove lei aveva scritto il diario questa parte ve l'ha un po' messa comunque lei alla fine trova sto diario di Stacleo perché deve andare a indagare su chi erano questi tenebris e anche questa parte ripeto viene buttata totalmente nel cesso ok intanto poi ci sarà la morte della lupa di Ecclissi imbarazzante vabbè comunque lei era andata nella biblioteca aveva trovato sto libro di Cleo l'aveva letto di qua di là eccetera eccetera e praticamente poi alla fine gli ha detto di trovare sta Cleo praticamente di trovare sta corona della luna e ovviamente ovviamente la mappa ce l'ha la cara Ashlyn tatuata sulla sua schiena ok quindi la cara Ashlyn in questo momento non può morire perché la la cosa ce l'ha tatuata dietro la schiena nel momento in cui dovesse schiattare perché poi ovviamente Ashlyn schiatterà in una maniera oscena oscena come anche Trick che cosa succede succede che praticamente una volta che che lei muore scompare anche la mappa però la caramia le dice guarda che io mi so io t'ho vista nuda un sacco di volte quindi io la mappa la sua memoria bene quindi deve crepare e non deve avere ragion d'essere quindi praticamente poi lei incontrerà sta Cleo ma prima di incontrare questa ovviamente questa Cleo c'è la morte di Ashlyn la morte di Ashlyn che praticamente viene in una maniera molto imbarazzante allora io pensavo che la risurrezione di Trick era per completare un ciclo allora Trick è morto all'inizio del primo romanzo per mano di Ashlyn che era in combutta con quelli con gli illuminati per la chiesa rossa perché praticamente lei aveva scoperto degli intrallazzi bla 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 lei l'aveva ucciso pugnalato al cuore lui era era caduto giù Trick è risuscitato per mano della dea qui io non ho capito chi ha fatto cosa di qua chi l'abbia risuscitato ma lasciamo perdere comunque sta di fatto che alla fine io pensavo che la sua risurrezione oltre a dire a mia determinate cose perché lei non alza neanche il suo santo sedere per andare a fare delle ricerche pensavo che era quello di chiudere un ciclo quindi di uccidere Ashlyn quindi che la sua vendetta quindi che il suo ritorno era per compiere la sua vendetta oltre che a dire a mia due stronzate nulla di tutto questo perché c'è un confronto con Ashlyn ah tra l'altro anche qui personaggio di Ashlyn buttato totalmente alle ortiche perché la cara Ashlyn è il citofono di Mia che le dirà determinate cose poi si dirà che lei si vuole vendicare di questa chiesa rossa di qua e di là ma poi tutto buttato lì il fatto sta che crepa 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 vabbè come crepa allora primamente c'è sta trick che va da lei e le dice tu hai fatto questo di qua e di là eccetera eccetera lui prende un pugnale e sta per ucciderla però non lo fa lei praticamente cade per terra e incomincia a piangere ok però è un un comportamento incoerente perché prima lei ha trovato delle giustificazioni quindi lei ha detto sì io ho ucciso ho fatto questa determinata cosa quindi in quella situazione chiunque avrebbe fatto questa cosa ok il punto è che non puoi avere una reazione del genere cioè non puoi avere una reazione di crisi di pianto cioè la crisi di pianto la potevi avere nel momento in cui c'era un confronto tra questi due questi due si scannavano come due iene nel da qualche parte e lei ammetteva di aver fatto una cagata e scopriva a piangere ma il punto è che questa cosa è totalmente incoerente cioè il personaggio di Ash in parte è come nemica quindi nemica di tutto di qua e di là che cerca di intortare Mia di qua e di là eccetera eccetera tra le due scoppia questo amore che ripeto è una cosa totalmente ingiustificata proprio perché Mia si contraddice per le sue stesse parole nel senso che lei dice ah ma se io avessi cioè se tu fai del male a qualcuno che io amo di conseguenza io ti ripago la stessa moneta benissimo allora perché non ha ucciso Ashlyn cioè questa cosa è totalmente incoerente dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio di Mia quindi Ashlyn è partita con come nemico è diventata poi la insomma la compagna di Mia la sua funzione era quella di citofonarla andare e dire guarda che succede questo guarda che succede quello di qua e di là perché lei ovviamente non ci arriva a fare queste cose e avere poi la funzione di redenzione cioè io mi sarei aspettato un Ashlyn redenta che avesse ammesso i suoi errori e che avrebbe avesse detto guarda che io mi pinto di questa cosa e di qua e di là visto che comunque la tematica della redenzione era presente anche nel secondo volume ovviamente il caro Furian poi ha fatto la finaccia che ha fatto però almeno era un senso un senso di redenzione del fatto che comunque Ashlyn si pente di quello che ha fatto chiede perdono chiede scusa di qua e di là però almeno c'è un aspetto di redenzione il punto è che questa cosa non ha assolutamente senso cioè non ha senso il fatto che lei prima si giustifichi per questa cosa e poi dica ah no vabbè mi metta a piangere di qua e di là comunque nel mente sta a besco questo vino questo vino è abbelenato quindi come muore la caro Ashlyn muore abbelenata praticamente loro trovano l'antidoto non so se vi ricordate il caro Ron quando aveva bevuto il coso che era andato che era abbelenato e Harry sta cercando tutti gli antidoti cercano gli antidoti gli antidoti non ce ne sono e la cara Ashlyn schiatta anche qui una forzatura perché poi alla fine di tutto che cosa succede succede che praticamente Ashlyn ritorna in vita e la cara mia vivono felice e contenta ma questo lo vediamo dopo allora primamente Ashlyn muore Ashlyn muore e insomma tra le lacrime di qua e di là eccetera eccetera poi il caro il caro fratello della nostra cara mia viene ripreso dal padre che poi scoprirà questo grande potere anche qui una cosa totalmente buttata lì così perché lui prende questo potere questa cosa di qua e di là la prende la fa eccetera eccetera cosa totalmente secondo me a caso e praticamente poi arriviamo alla battaglia finale quindi al fatto che comunque insomma la cara mia poi ucciderà non ucciderà lei la ucciderà il fratello comunque il caro il caro tizio schiatta il caro scaeva però prima abbiamo una cosa che io sinceramente non ho capito allora lei incontra sta Cleo sta Cleo che praticamente dice che lei aveva partorito un figlio di qua e di là eccetera eccetera comunque la parte della mitologia e lei ucciderà sta Cleo quando poi arriverà nella chiesa rossa con una facilità veramente estrema perché poi arriva alle falde del Kilimanjaro arriva sto kraken lei in tre secondi lo uccide ma che ve lo dico a fare e praticamente parlerà col bibliotecario e si scoprirà che il bibliotecario è in realtà il figlio di questa di questa tizia di questa di questa Cleo e gli dice guarda che tu sei destinata a morire perché c'è questo equilibrio di qua e di là cioè praticamente il fatto dei tenebris e di tutta questa cosa che ripeto non viene assolutamente approfondita il fatto che deve ritornare la notte quindi ci deve essere un equilibrio tra il dio del sole e la dia della notte praticamente quindi cosa succede sta parte è buttata lì così dice no vabbè ma tu devi crepare qua e là eccetera eccetera succedono delle cose random tipo la morte di Trick che a un certo punto si butta giù dal balcone anche lì una cosa totalmente inutile cioè io avrei capito la morte di Trick come Tommen quando è morto dopo la dopo tutto l'incendio del del tempio però anche lì io mi sarei aspettato una morte significativa lui ha ucciso Ashlyn quindi il suo compito è finito e può ritornare nel regno dei morti cioè così era sensato il personaggio ma ripeto Jay Kristoff non è capace di costruire un personaggio a 360 gradi cioè lui è affezionato a Mia perché si vede tant'è che il finale è perché il suo padre non vuole in qualche modo lasciare la sua figlia perché io ho capito questa cosa ho capito quanto lui insomma ci tenga Jay Kristoff cioè no scusate Jay Kristoff ci tenga Mia che le voglia un sacco di bene come un padre ci mancherebbe il punto è che non è che poi salva guardare il protagonista e tutti gli altri possono crepare così ma almeno dammi un motivo reale del perché questi personaggi muoiano cioè anche i grandi i piani alti della chiesa tipo Drusilla tipo Adonai e quant'altro sono tutti dei personaggi funzionali cioè dei personaggi che non sono molto ben caratterizzati tipo il personaggio di Drusilla poteva essere molto interessante poteva essere sviluppato benissimo perché un'altra particolarità di Jay Kristoff è quella comunque di avere delle figure femminili molto forti e questa è una cosa che io onestamente ho apprezzato perché comunque non solo la cara Mia Corvere ma anche tutti gli altri sono dei protagonisti sono delle donne veramente molto forti il punto è che la morte di la morte di Trick è totalmente inutile perché lui doveva completare un ciclo cioè lui doveva tornare per appunto la tematica della vendetta perché lui voleva vendicarsi di questa cosa eccetera eccetera riportata in vita dalla dea e quant'altro ma doveva avere un senso la sua morte cioè una morte così perché sì ok alla fine tu non servi più e boh ti faccio morire ma non funziona assolutamente così cioè una morte deve essere deve essere giustificata e la giustificazione della morte di Trick è che lui uccide Ashlyn perché era giusto che lei pagasse il suo debito e buonanotte e lui scompariva allora sì che la cosa aveva senso ma una morte così non ha assolutamente senso come anche quella di Ashlyn cioè loro dovevano essere non solo i contendenti del cuore di Mia perché poi alla fine Mia prenderà una decisione ma il punto è che i due dovevano confrontarsi Trick che doveva ucciderla perché era giusto che andava così cioè fare una morte così idiota ad un personaggio è totalmente inutile è totalmente inutile farlo morire così per poi per poi riportarlo in vita per creare un finale proprio alle pagine della nostra vita che Nicholas Sparks levate proprio cioè non funziona assolutamente così una costruzione di un personaggio una un ciclo perché il personaggio comunque deve avere uno insomma c'è un'evoluzione uno sviluppo e poi arrivare a determinate cose arrivare a una consapevolezza il punto è che Jack Christophe come anche con Mia Corvere non riesce a completare un ciclo cioè come anche il personaggio di il personaggio di Scaeva il personaggio di Scaeva fondamentalmente tutta questa cattiveria tutta questa cosa non si riesce a percepire e anche la la tematica della vendetta perde tantissimo perché la cara mia non ragiona su se sia ancora giusta la vendetta se è giusto vendicarsi no cioè lei deve ucciderlo perché deve ucciderlo punto cioè a lei dei tre a non gliene frega assolutamente niente di vendicare il suo patrigno a non gliene frega assolutamente niente quindi voglio dire tutta questa tematica della vendetta che in Mia Corvere già era andata alle ortiche già da già da tempo poteva ritornare in Trick Trick che alla fine cerca vendetta cerca un senso di giustizia attraverso la morte di Ashlyn ma così non è cioè far morire Ashlyn ma poi ma poi anche lì cioè una morte totalmente insensata perché tutte le boccettine sono vuote e quindi loro non riescono a fare il veleno poi Trick annusa la cosa e dice ah ma questa è e dice il nome l'avrei dovuta riconoscere ma scusa ma se voi avete fatto la stessa classe no se avete fatto lo stesso percorso anche Ashlyn sarebbe dovuta cioè avrebbe dovuto riconoscere il veleno cioè voglio dire cioè se tu hai detto che l'avresti riconosciuto tu anche lei l'avrebbe dovuto riconoscere quindi è totalmente inutile è una forzatura questa cosa cioè il lieto fine si poteva fare costruire anche senza Ashlyn di mezzo e la morte di Ashlyn non porta nessun cambiamento a Mia è questo che a me fa arrabbiare cioè il fatto che Mia abbia sopportato tantissimo ma non abbia avuto nessun tipo di reazione cioè lei doveva diventare una persona spietata sanguinaria rancorosa cioè perché comunque la vita gli ha dato una sprangata di 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 cioè una sprangata dietro l'altra sul sedere porca miseria cioè la stessa cosa capita con Red Rising però lì il personaggio è costruito diversamente c'è una caratterizzazione molto del personaggio perché Pierce Brown insomma non è un caretino però noi percepiamo questo senso di vendetta percepiamo questo senso di trovare giustizia che in Mia non c'è assolutamente non c'è nulla di tutto questo cioè Mia Corvere è solamente una che deve uccidere quello ma non c'è neanche per il bene supremo di Treia per questa cosa cioè voglio dire ma se tu non hai se tu non hai questa cosa cioè se tu non hai se la tua vendetta poi è andata a farsi benedire se è andata a farsi benedire perché continuare cioè questa cosa non ha il minimo senso secondo me non c'è neanche la volontà l'introspezione di capire determinate cose cioè è tutto sì tu devi fare questa cosa e basta cioè anche il fatto dell'essere prescelta perché comunque anche qui si parla di Mia che è diventata la prescelta di qua di là eccetera eccetera però fondamentalmente tutta questa parte non viene assolutamente spiegata cioè non è che si dice vabbè io sono padrona del mio destino di qua di là anche se c'è scritto nel libro del libro del destino però a me non interessa perché io voglio decido io del mio destino ci poteva anche stare no ci viene detto che lei è la prescelta di qua di là però lei dice no vabbè ma io non sono un'eroina io sono un'antieroina che poi mi dovete spiegare come lei è un'antieroina cioè la differenziazione tra Mia Corvere e le altre è il fatto che Mia Corvere fa sesso fuma e beve ma più di quello non fa non fa assolutamente niente cioè tutto quello che lei scopre è citofonato glielo vanno a riferire lei non scopre assolutamente niente cioè io mi sarei aspettato per esempio che il fatto degli intralazzi con l'inciucci della chiesa rossa con gli illuminati li avessi scoperti lei nel momento in cui Ash gli ha detto una frase un po' ambigua e lei andava a cercare la verità ma se andava a cercare da sola invece no sul terrazzo la Ash dice eh guarda che la chiesa però non è quella che credi perché ha ucciso tuo padre ma non si costruisce così un personaggio ma poi voglio dire ok lei viene a scoprire queste cose citofonate ma non si vede un progresso di Mia cioè Mia già doveva essere un personaggio eccessivo già dalle prime pagine come Ashlyn cioè scusate Jessamine Jessamine è un personaggio sanguinario è un personaggio che vuole a tutti i costi la morte di Mia perché gli ha rubato qualcosa è quello che doveva avere Mia i comportamenti che ha Ashlyn cioè che ha scusate Jessamine invece no perché Mia è formalmente vendicativa e la tematica della vendetta si va a perdere proprio perché A si dà spazio a questo romance e B alla fine della fiera non c'è un'introspezione dalla parte di Mia che dica se è veramente giusto continuare o meno questa vendetta perché fondamentalmente diciamocelo tranquillamente Scaeva che cosa ha fatto cioè è ovvio che la madre insomma se faceva cosacce col padre andava a qualcun altro cioè mo voglio dire parliamoci chiaro quindi fondamentalmente che cosa ha fatto anzi Scaeva le dice una cosa molto interessante dice guarda che io e il tuo padre non siamo tanto diversi perché io comunque ho ucciso poche persone se tuo padre andava al potere ne uccideva molte di più quindi è lì che doveva esserci tutta una elaborazione da parte del personaggio di che cosa vuol dire vendetta di che cosa avrebbe insomma rischiato se il gioco valeva la candela tantissime cose invece no perché Mia deve uccidere quello punto perché è stato detto così ma fondamentalmente non c'è nulla che ce lo faccia pensare perché fondamentalmente Scaeva cosa le ha fatto di male ok le ha rovinato l'infanzia le ha rovinato la vita anche se questa cosa non viene assolutamente sottolineata perché non capiamo esattamente che cosa lei abbia affrontato quindi perché ce la deve avere con lui dal punto di vista del governare noi non sappiamo niente non sappiamo se è spietato se insomma se fa determinate cose cioè Scaeva fondamentalmente è uno di quei vecchi personaggi dove lui è cattivo è cattivo punto però non ha un'introspezione cioè cerca di averla ma poi non ce l'ha fondamentalmente cioè anche sto fatto di lui che va a prendere il potere che gli diventano gli occhi neri di qua e di là che vuole uccidere eccetera eccetera è totalmente inutile come cosa è inutile vabbè quindi lei uccide sta tizia sta uccide sta Cleo veniamo a scoprire determinate cose e c'è il ballo in maschera in questo ballo in maschera praticamente di qua e di là eccetera eccetera si vengono a scoprire determinate cose insomma poi vabbè c'è la parte della chiesa dove muoiono delle persone vabbè praticamente qua muoiono tutti quindi è inutile che ve lo sto qui a dire praticamente arriva la caramiglia vestita appunto di ombre di qua e di là e lei affronterà suo padre anche questa parte perde totalmente di pathos perché J. Christophe non sa trasmettere nessun tipo di sentimento soprattutto in questo caso e quando Mia vede la morte del padre perché non lo sa scrivere cioè questa parte doveva essere ricca di pathos ricca di tantissime cose ricca di risentimento ricca di odio odio anche con ingiustificato perché non si riesce bene a capire il punto è che non c'è nulla di tutto questo vabbè poi c'è la morte della della cara Eclissi Eclissi che muore così anche perché lei non ha ragione d'essere quindi levati dalle scatole il caro Messer Cortese a un certo punto sparisce poi ritorna così nel nel mezzo del cammin di sua vita e praticamente insomma la cara la cara mia e il caro padre muoiono insieme muoiono insieme e vengono tranquillamente uccisi e quando c'è la morte adesso non mi ricordo esattamente la dinamica perché se non sbaglio il fratello uccide tutte e due li trapassa adesso non mi ricordo comunque sta di fatto che muoiono e quindi c'è un completamento appunto della del prologo perché già dal prologo noi sapevamo che mia corvera era morta però questa cosa dei libri poi di qua e di là non viene assolutamente ripeto io non ho capito questa cosa dei libri cioè non ho capito se questi libri sono scritti prima dopo durante di qua e di là perché lo sbagliamento della storia si è completato comunque quindi gli avvenimenti sono già successi come ha fatto Mercurio a sapere determinate cose quindi la parte finale è la parte iniziale di tutto che il fatto che scriva quindi questi libri sono già stati scritti prima però poi li hanno letti e la cosa è stata modificata non si riesce a capire io non ho capito niente cioè mi è venuto il mal di testa con questa parte comunque sostanzialmente muoiono il punto è che arrivati poi a questa parte insomma io mi aspettavo come vi ho detto prima il fatto del di Cosoli di Sailor Moon che prende i poteri di qua e di là e mi sarei aspettato anche una un'evoluzione del personaggio del fratello di Mia cosa che non assolutamente perché il personaggio di Mia a un certo punto vabbè poi sparisce perché Mia poi andrà alla chiesa rossa da sola se non ricordo male e Ashley le fa da balia sparisce totalmente mi sarei aspettato già all'inizio il fatto che comunque i due si parlassero e chiarissero questa cosa perché fondamentalmente lui più che essere petulante più più che essere no perché io sono bravo sono bella sono figlio mi sarei aspettato comunque un confronto e che lui conoscesse in qualche modo Mia e che alla fine i due si alleassero per la morte del padre il punto è che non è stato così cioè il personaggio di il personaggio di come si chiama Joseph come cavolo si chiama di Lucius fondamentalmente anche lì è a caso quindi perché introdurre un personaggio così casualmente se poi non è di supporto Mia allora sì che in quel caso lui era funzionale a Mia che la doveva proteggere e buonanotte al secchio il punto è che non funziona così cioè ogni introduzione del personaggio deve avere anche uno svolgimento all'interno della storia non che deve rompere le palle e poi ritornare di qua e di là prendersene andare eccetera eccetera è tutto è una cosa molto inutile come cosa cioè non ha alcun senso questa cosa come anche non ha senso il fatto di di Scaeva che è cattivo di qua e di là eccetera eccetera che vuole prendersi tutto vuole prendersi il potere però è una cosa molto formale perché fondamentalmente il world building e come funziona l'aspetto socio-politico di Treia noi non lo sappiamo perché per sapere come funziona questo questo aspetto socio-politico basta che ci andiamo a legge a storia di Roma di Giulio Cesare Cleopatra il triunvirato eccetera eccetera perché fondamentalmente non ci dice assolutamente niente quindi a parte finale insomma è mia che crepa quindi si rivela il quarto segreto di Fatima nel primo volume che lei schiate tra l'altro dice che i morti quando se la fanno quando muoiono se la fanno anche addosso e io onestamente ho trovato l'incipit molto 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 offensivo molto molto offensivo perché è vero che succede quello è vero perché ve lo posso dire da os però onestamente ci vuole rispetto per la morte cioè ci vuole rispetto per una persona che se ne va che sia personaggio reale che sia anche un personaggio di un libro quindi arriviamo alla conclusione quindi come finisce sto libro quindi molti si aspettavano a morte di mia ma pur io mi aspettavo la morte dico cavolo io non vedo l'ora di arrivare alla fine proprio per godermi la sua morte santo di quel cielo così ero contento ero felice e contento e potevo gioire perché per me questi tre volumi sono stati uno strazio vi dico proprio la verità sono stati un strazio e soprattutto la seconda parte è veramente imbarazzante veramente imbarazzante cioè ci sono cose cose che vengono riempite riempitivi eccetera 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 cose veramente allucinanti cose allucinanti come vi ho detto prima del fatto che c'è lui che parla delle cosacce scene di sesso che ovviamente non le sa descrivere perché il caro G. Christophe ho sentito che ha letto dei romance ma bisogna vedere che romance ha letto signor Christophe se lei ha letto i 50 assumatori no assolutamente quindi alla fine di tutto questo quindi la parte dove lei viene a scoprire determinate cose di qua e di là la parte del figlio di Cleo che io onestamente non l'ho capita mi ha ricordato molto quando c'era lo zio dei Targaryen lì quello lì che era cieco che poi era morto eccetera eccetera anche qui non l'ho capita questa cosa non ho capito anche tutto il fatto legato al fatto che lei è la prescelta un mio dio sono la prescelta ed è qua di là comunque stavo per gioire della sua morte non si fa ma stavo per gioire e praticamente come va a finire tutto questa purpuri di roba il caro Jay Kristoff secondo me è partito in quarta di far morire un personaggio perché fondamentalmente non abbiamo visto dei fantasy dove il personaggio principale muore perché comunque è il protagonista e quindi non è che può crepare vabbè a parte la saga di Divergent che era imbarazzante che io non ho neanche finito però so come va a finire però nel fantasy noi non abbiamo un protagonista che muore quindi il caro Jay Kristoff voleva costruire secondo me un fantasy innovativo sotto quell'aspetto ovvero il fatto che che la protagonista muoia quindi già dal progo ci dice guarda che lei si è metta a schiattare il punto è che secondo me mentre scriveva il libro lui si è un po' affezionato a mia perché io ho visto le interviste di chi c'era lì a Milano eccetera eccetera e io ho percepito questo ho percepito il fatto che lui in qualche modo abbia creato un feeling con Mia ok quindi alla fine quando si è trovato a scrivere il finale che ci mette un bel po' ad arrivare il finale la quinta parte insomma non finisce mai quando è arrivata poi nella parte finale ha trovato un escamotage per salvare Mia perché ripeto lui si è affezionato a mente tanto cioè come se fosse stata sua figlia ma io da una parte lo capisco perché voglio dire se tu ti affezioni moltissimo da lettore figuriamoci da autore che scrivi ok e voleva trovare un escamotage come l'ha trovato sto escamotage allora praticamente alla fine Ashlyn muore e risuscita perché qui è tutto morire e risuscita de qua e de là risuscita e le due vivono felici e contenti in questa casa su un lago cioè che Nicholas Parks levate proprio è un finale giusto non è un finale giusto è un finale coerente allora secondo me non è un finale coerente con tutto quello che è successo perché alla fine della fiera si poteva dire che la vendetta porta a qualcosa di brutto porta a a pagare un prezzo altissimo con la vita e lì ci poteva anche stare il punto è che visto tutto il percorso della cara mia corvere che comunque questo aspetto della insomma tutto questo aspetto della come si chiama della della vendetta è andato un po' scemando perché fondamentalmente è solo sulla carta è un finale è un finale inaspettato ma secondo me non è ampiamente coerente cioè il punto è che lei secondo me doveva crepare e basta cioè non è che doveva che si doveva fare questo ai viscero felici e contenti perché non ha assolutamente senso cioè un romanzo dove si parla di morte di di gente che crepa di vendetta e poi fa un finale come biancaneve che si sveglia e viene portata via dal principe non funziona così secondo me cioè ci vuole anche tutta una coerenza ma Jack Christopher non è stato coerente con niente durante tutto il romanzo non è stato coerente con la storia perché comunque si parla di Tenebris si parla di queste cose sì ok ci vengono detti che loro sono tipo degli orcrux e buonanotte però più di quello non viene approfondito il personaggio di mia è un personaggio totalmente incoerente cioè che inizia finisce di qua di là eccetera eccetera c'è un personaggio che io non ho capito i personaggi secondari sono sono finalizzati a fare una determinata cosa non hanno una capacità di agire e non sono molto ben caratterizzati o sono caratterizzati a metà cioè è tutto molto faccio un passo avanti ma ne faccio due indietro quindi in tutta questa incoerenza secondo me la parte più incoerente di tutto è proprio il finale perché il finale è la insomma la risultante di tante incoerenze messe insieme quindi io gli sarei aspettato una morte significativa magari da parte che ne so di Ashley o di qualcun altro che poteva avere un senso e un significato all'interno di questa cosa ma il punto è che non ha senso non ha senso un finale del genere con Mercurio che scrive il mai dimenticare di qua e di là eccetera eccetera ma non ha senso questa cosa innanzitutto perché all'interno insomma di questi tre libri di qua e di là non ho capito niente cioè veramente non ho capito quindi è Mercurio che ha scritto i tre libri e poi li ha riscritti non ho capito quindi le note sono quelle di Mercurio che scrive Mercurio non ho capito cioè è tutto un vorrei ma non posso questa cosa di Tenebris poteva essere interessante poteva essere ampliata approfondita il personaggio di Furian poteva essere ampliato e approfondito il personaggio di Trick è solamente fatto a metà ci arriva a un certo punto poi basta ma non funziona così non si costruisce così un personaggio non si costruisce così una storia io posso capire che questo libro sia piaciuto a tutti per il fattore di mia eccetera eccetera ma sono d'accordo ma il punto è che ci sono delle cose che non funzionano delle cose oggettive che non funzionano onestamente e mi dispiace dirlo mi dispiace ma per me è stata un'agonia perché io da un new adulto mi aspettavo veramente molto di più mi aspettavo il fatto che mia prendeva delle batoste sul muso ma queste la cambiavano la facevano diventare spietata la facevano diventare assetata di sangue come in Revenge Revenge è una delle mie serie preferite magari se volete vi farò anche una recensione su Revenge perché è secondo me molto bella e rende proprio l'aspetto della vendetta e il prezzo che si paga con la vendetta cioè il sangue chiama sangue anche lì una frase totalmente a caso perché non è tanto il fatto che lui si sia ispirato a Arya Stark a Spark a Kusai Pirati dei Caraibi assolutamente il punto è che ripeto il personaggio di Trick muore così ma cioè allora qual è la sua funzione ritorna in vita mettere un po' dei pepe in mezzo e buonanotte cioè fare lo spiegone Ashley che muore resuscita muore resuscita cioè sto comportamento così non funziona così assolutamente cioè il personaggio deve essere anche coerente in tutto quello che fa l'inizio alla fine quindi mi dispiace mi dispiace perché fondamentalmente ha dei lati positivi la saga però per me è stata agonizzante per me è stata è stata veramente eccessiva io assolutamente no per me è un grande 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 no ma tutta la saga in generale e mi dispiace mi dispiace ma di contro sono contento che molti l'abbiano apprezzata comunque arriverà poi la mia recensione non spoiler quindi tenetevi in campana io vi mando un grosso bacio noi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo finale ciao ciao